Poco più di due settimane all'inizio del campionato di A2 femminile, siamo con il vice allenatore della Volley Soverato Diego Boschini alla sua terza stagione consecutiva che si accinge a vivere qui in Riva all'Oionio un mese e mezzo di duro e intenso lavoro per la squadra che si sta avvicinando quindi all'esordio stagionale sono stati sorteggiati da pochi giorni anche i calendari, si inizia in casa contro la neopromossa Vallefoglia è un inizio subito importante perché poi ci saranno due trasferte consecutive quindi Soverato che si deve subito far trovare pronto Innanzitutto parto con dei ringraziamenti, ringraziamenti a Presidente che per il terzo anno in fila mi ha dato la possibilità di poter allenare ancora qua a Soverato quindi sicuramente un ringraziamento grande a tutta la famiglia Matoz chiaramente poi il secondo ringraziamento a Bruno Napolitano che ha comunque voluto continuare la collaborazione con me e quindi partendo da questi presupposti siamo partiti per questa nuova avventura un'avventura un po' complicata nel senso che è un po' tutta da scoprire quest'anno vista l'emergenza che ci ha colpito sicuramente abbiamo fatto già un mese e mezzo di lavoro è un lavoro molto intenso, le ragazze hanno risposto benissimo al lavoro che abbiamo proposto e siamo molto contenti siamo molto contenti anche dei test che stiamo facendo con altre società di A2 amichevoli siamo pronti, siamo carichi, non vediamo l'ora di partire il 20 di settembre con Vallefoglia, una neopromossa che però ha nel suo roster delle giocatrici che possono comunque darci parecchio filo da torcere e sicuramente non verrà qua a fare una passeggiata di salute Squadra rinnovata per nove dodicesimi che però almeno dalle impressioni in questi test precampionato e durante gli allenamenti ha dato già modo di vedere che si sta integrando al meglio tante giovani, alcune giocatrici più esperte ma al momento sembra esserci il giusto mix e il lavoro che sin qui si è fatto sta dando dei frutti importanti Sì sì, allora partiamo dal fatto che le tre riconferme che abbiamo fortemente voluto dell'anno scorso sono state la pietra miliare di questa squadra nel senso che poi da lì siamo riusciti a contornarci di altre giocatrici altrettanto importanti e che si integravano al meglio con le scelte strategiche che la società comunque ha fatto a inizio stagione Sì, le nuove arrivate si sono comunque ambientate facilmente hanno trovato subito un ottimo feeling soprattutto con il palleggiatore quindi questo per noi è un'ottima notizia nel senso che era la nostra preoccupazione un po' più grande quindi risolto questo ostacolo qua diciamo che adesso stiamo lavorando già su cose che l'anno scorso magari sono entrate in un successivo momento quindi siamo molto contenti e speriamo di continuare così e continuare a crescere sempre di più di settimana in settimana Il direttore tecnico della Vole Soverata Antonio Valiengo qui alla seconda stagione in Rivalo Ionio ci siamo qua, si sta per partire la nuova stagione già un mese e mezzo di intenso e duro lavoro per il Vole Soverato una squadra rinnovata per nove dodicesimi ma una squadra che si sta amalgamando sempre più con tante giovani promesse che ha voglia di stupire così come ha fatto negli anni precedenti Sicuramente la composizione di questa nuova squadra è partita da tre riconferme importanti che sono le ragazze che l'anno scorso si sono distinte maggiormente da Chiara Amazon, Chiara Riperbelli e Laura Bortoli La linea della società è stata seguita nella costruzione di questa nuova squadra e come hai detto tu sicuramente i talenti in questa squadra giovani non mancano di certo per cui sicuramente siamo fiduciosi su una crescita costante del livello del nostro gioco Un duro lavoro il tuo e quello dell'intera società in una stagione per certi versi nuova, particolare per via dell'emergenza causata dal Covid-19 nuovi protocolli da seguire quindi sicuramente un grande lavoro anche per la società per rispettare questi nuovi protocolli si ripartirà in sicurezza con delle nuove procedure ma con tanta voglia e passione quella non è cambiata sia da parte del Presidente sia da parte del resto della società l'obiettivo è fare bene anche quest'anno ci saranno due gironi il girone est è quello dove ci sarà il volle soverato che sarà composto da nove squadre con i calendari proprio che sono stati stilati in questi giorni Sì, diciamo che chi si adatterà meglio a queste nuove situazioni che viviamo giorno dopo giorno avrà sicuramente i risultati migliori noi ci stiamo attrezzando in tutti i modi per poter essere pronti e di vivere anche se il nostro dovrebbe essere una programmazione attenta nel medio periodo però dobbiamo comunque di necessità vivere alla giornata ed adeguarci alle regole di vita che ci vengono imposte di giorno in giorno adesso il protocollo in corso in questo momento scadrà il 7 del mese di settembre e dopo di che avremo il nuovo protocollo che cerchiamo di rispettare speriamo una tregua da parte di questo virus per poter sviluppare il nostro lavoro che è quello che poi noi amiamo e abbiamo nel cuore Una società che si sta muovendo anche sotto il profilo della promozione dell'immagine anche proprio in queste settimane abbiamo letto anche di nuovi accordi di partnership con delle realtà imprenditoriali del territorio che sicuramente oltre che a far piacere ad aiutare la società sono anche indice di una squadra e della figura di questa società che comunque nel corso degli anni sta facendo bene in A2 e sta crescendo Confermo questa cosa e sono molto soddisfatti grazie a tutti stiamo sviluppando una progettualità che può essere nuova ma comunque che sta portando dei buoni frutti il primo esempio è questo bellissimo accordo che è uscito in queste ore grazie all'intervento del nostro responsabile dell'organizzazione che ha facilitato l'ingresso di questo nome che ha un suo prestigio nel mondo della moda italiana e poi a breve ne aggiungeremo altri sono piccole partnership che però sono molto significative e soprattutto stanno di novità per questa nostra società che merita veramente di poter stare ad alti livelli nel firmamento della pallavolo italiana Infine in qualità di profondo conoscitore della pallavolo femminile di Serie A soprattutto ti chiediamo che campionato si aspetta Antonio Vagliengo quest'anno non solo da parte del Valle Soverato ma che tipo di campionato sarà visto che ci sono tante squadre attrezzate, rinnovate sarà un po' anomalo perché un girone è composto da 10 squadre e l'altro da 9 però poi il format è praticamente quello che si è seguito negli ultimi due anni Sì, diciamo che il format è questo la mia sensazione è che non ci sia una squadra come poteva essere Trento l'anno scorso chiaramente c'è un gruppo omogeneo di squadre e noi speriamo di inserirci che renderanno questo campionato estremamente interessante quindi la lotta per il girone playoff sarà agguerritissima sin dalla prima partita e ogni punto, anche un punto solo sarà determinante per il buon esito della stagione quindi sin dalla prima partita noi dovremmo cercare di muovere la classifica perché sarà fondamentale